L'epatologia è la branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura di malattie epatiche che coinvolgono fegato, cistifellea, pancreas e le vie biliari, come epatiti, cirrosi epatica e calcolosi delle colecisti. Le competenze cliniche di un epatologo sono spesso affiancate da competenze tecniche, come l'ecografia attraverso cui può approfondire la condizione del fegato o delle vie biliari. L'epatologo è il medico laureato in medicina e chirurgia, che ha svolto la scuola per specializzarsi in gastroenterologia, con ulteriore specializzazione in epatologia, per esercitare deve essere iscritto all'ordine dei medici. Una visita epatologica permette di diagnosticare eventuali patologie del fegato, della cistifellea o delle vie biliari. È consigliabile rivolgersi all'epatologo, tramite prescrizione del proprio medico di medicina generale, per una valutazione complessiva della propria condizione clinica, a maggior ragione in caso di Innalzamento delle transaminasi e degli indici di colestasi. In caso si voglia approfondire la propria condizione epatologica. Malattie epatiche ereditarie. Emorragie gastrointestinali. Oltre al valore delle transaminasi elevato, riscontrabile dagli esami del sangue, altri sintomi correlabili a disturbi epatici possono essere Prurito. Dolore nel quadrante destro dell'addome. Difficoltà digestive. Perdita di appetito o nausea. Urine scure. Secchezza nella bocca. Stai cercando l'epatologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it Oppure su www.socialdoctor.it Oppure su www.studiopronto24.it Questa è un'idea di UMA Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto farò altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di UMA Innovation. Iscriviti a questo canale.